...preparato in tutti i posti della Paglia Vangelissi, un salve. ...e che oggi, Claudia Colucci, segna punti al referto elettronico di Hernandez. Edita numero 17, tra i voci piani, edita il suo vice, Marco Cappella. Alexander Maggiunga, dalla sua vice, di Massa, Asolo, a livello! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!